Musica A Mondaino vai scena uno dei derby in programma in questa stagione dedicato alla zona della Balconca. I giallobru di casa sfidano la sorte e decidere se divenire grandi o fare una comparsa d'applausi come la precedente annata. I morciano attenti di fare il salto importante ma in questa stagione manca di continuità. I soliti tifosi di Mondaino danno la carica ai propri beniamini ma tuttavia assistiamo a una prima frazione di gioco a vara di emozioni. Due azioni degne di nota da parte dei padroni di casa che si rendono pericolosi con questo svento dalla distanza e con una punizione di De Muru che si perde sull'esterno della rete. La ripresa è decisamente più emozionante se così vogliamo dire. Baffioni mette al centro, Panini raccoglie il pallone ma schiaccia troppo il destro. La risposta di Morciano perviene con questo tiro di sottile sporcato a Mancini con Cangini che si rifugia in corner. Il Morciano prosegue la sua iniziativa ma né Gravina né Antonelli impattano la sfera come vorrebbero. Il Mondaino in contropiede prova a colpire ma Canizzo spreca la chance. Il Morciano invece tenta l'effetto sorpresa al calcio piazzato ma non inquadre il bersaglio. Mentre sull'alto versante il tiro di giro metti si perde alto. Ma sul più bello il Mondaino rompe l'equilibrio in campo. Poi ne ho entrato Lazzari stop alla sfera e fredda Marconi trovando così il gol vittoria. Festeggiando con un'esultanza tutta sua. Sarà questo dunque il gol partita con lo stesso numero 16 protagonista poco dopo quando sfiora il raddoppio con un tiro al giro terminato a lato. Dal rinvio di Marconi nasce il contropiede di Longoni. L'attaccante involato in area avversa non riesce ad incidere come vorrebbe. Il Mondaino ricevuto lo schiaffo sfiora nuovamente il raddoppio con Baffioni. Pallone fuori di un nulla. Mentre l'ultima occasione del match è del Morciano. La punizione di Longoni viene sventata da Canzini. Termina qui la gara con il Mondaino che si impone per 1-0 proprio sul Morciano.